Feggica e Figgis Conf Commercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero a favore degli automobilisti non certo del governo. A dichiararlo le due sigle dei gestori degli impianti di benzina in una nota congiunta. La mobilitazione resta in piedi, ha detto il presidente della Feggica Roberto Di Vincenzo al termine dell'incontro. Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il ministero che si è speso per diventare interlocutore propositivo, l'incontro ha confermato il persistere di molte criticità. Le proposte mandative avanzate dal governo dal suo stesso decreto non rimuovono l'intenzione manifesta di individuare i benzinai come destinatari di adempimenti confusi, controproducenti oltre che chiaramente accusatori. Appare ormai chiaro, aggiungono, che ogni tentativo di consigliare al governo ragionevolezza e concretezza non può o non vuole essere raccolto. Per questa ragione anche insistere nel proseguire nell'azione di sciopero utilizzata per ottenere ascolto dal governo non ha più alcuna ragione di esistere. Tanto più che uno degli obiettivi fondamentali, vale a dire, ristabilire dopo le accuse false scomposte verso una categoria di lavoratori è stato abbondantemente raggiunto. I distributori quindi riapriranno già da questa sera.